questo video è la continuazione del video precedente riguardante la modellazione semantica su openhab 3 nel video precedente avevamo creato un esempio di modello di casa con due piani e due stanze e quindi riprendiamo da dove avevamo lasciato con l'aggiunta di due interruttori luci nella stanza da letto del primo piano adesso andiamo ad aggiungere primo piano camera da letto un interruttore per la luce quindi selezioniamo camera da letto e clicchiamo add equipment che chiameremo g bedroom lights quindi raggruppiamo diciamo tutte le luci che possiamo avere in camera da letto ne avessimo anche più di una come label mettiamo luci camera da letto tipo lasciamo sempre group come categoria mettiamo light bulb come classe semantica andiamo a scegliere light bulb clicchiamo create e a questo punto all'interno di questo gruppo questo equipment andiamo ad aggiungere un point da things come abbiamo fatto prima selezioniamo come things il nostro solito remote openhab server e nei canali cerchiamo first floor bedroom light e scegliamo il lamp switch come nome li mettiamo quello che sto usando io nel vecchio come al solito come label mettiamo luce principale camera da letto come tipo lasciamo lo switch category mettiamo light bulb classe semantica è uno switch proprietà è una luce aggiungiamo al model e abbiamo la luce il nostro item che al momento è spento per dare un senso all'aver creato un gruppo di tutte le luci della camera da letto andiamo ad aggiungerne una seconda così a titolo di esercizio facciamolo partendo da things quindi solito il nostro server andiamo dai channels e cerchiamo ff bedroom e abbiamo il light night switch che è la luce notturna lo aggiungiamo creiamo un nuovo item lo chiamiamo nello stesso modo come label gli diamo luce notturna camera da letto tipo uno switch category light bulb anzi in teoria qui potrei dargli color light perché in teoria è una luce rgb come semantic class usiamo il solito switch come semantic property gli diamo light come parent group gli diamo la stanza o l'equipment in cui va inserita questa questa luce nel nostro caso dobbiamo cercare l'equipment luci camera da letto ok il profilo lasciamo perdere clicchiamo su link torniamo su model se apriamo il primo piano vediamo che il nostro item è stato aggiunto al modello cercare di fare una modellazione corretta di tutti i nostri item della configurazione della casa permette openhab di capire avere delle informazioni in più su tutti gli oggetti che deve gestire questo si rispecchia ad esempio nel modo in cui lui di default ci presenta i vari oggetti quindi senza che noi abbiamo gestito nulla dal punto di vista di interfaccia grafica avendo gestito però correttamente tutti i tag dei gruppi e degli item se noi torniamo sulla nostra home page andiamo a vedere che ad esempio nella sezione ambienti openhab è in grado di crearci le due camere che abbiamo creato all'interno con l'indicazione dei piani e in alcuni dove ci sono delle informazioni testuali da mostrare ci vengono mostrate in automatico senza che glielo abbiamo detto noi cliccando sul singolo oggetto andiamo a vedere cosa c'è all'interno quindi tutto quello che è pilotabile all'interno di questa particolare stanza oltre alla visualizzazione per location abbiamo anche la visualizzazione per dispositivi dove openhab riconosce gli interruttori per le luci e i sensori in questo caso di temperature e di umidità oppure abbiamo la vista per proprietà dove abbiamo tutte le proprietà di controllo del che abbiamo utilizzato come classe semantica quindi abbiamo la luce temperatura e umidità